Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il palo del semaforo ferito l'ottantenne alla guida del mezzo e un pedone intento ad attraversare la strada. No Vax mi fate schifo, vi curerò ma senza parlarvi, sappiate che vi disprezzo. Frasi shock del primario del pronto soccorso di Pesaro, il Movimento Io Apro e il Comitato Salute e Diritti chiedono di rimuovere Umberto Gnudi da suo incarico. Continua la battaglia dei docenti universitari contrari al Green Pass, il professor Vincenzo Cuteri rivendica il diritto al lavoro e la libertà discenta sul vaccino. Il governo ha detto spinge sui vaccini per smaltire le dosi già acquistate a prescindere dalla loro efficacia e sicurezza. Caro bollette, tariffe elevate, la CIS di Fano torna all'attacco e chiede al primo cittadino di aprire un tavolo di confronto per il sindacato. Non è sostenibile che gli utili di Aset vengano utilizzati per finanziare il bilancio del comune. Premiati in prefettura gli staccanovisti della provincia pesarese, dieci dipendenti di aziende pubbliche e private che si sono distinti per meriti, laboriosità e buona condotta morale. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. In primo piano l'incidente che si è verificato questa mattina alle 11.30 a Fano. Un fanese di 81 anni alla guida di una panda stava percorrendo Viale Gramsci in direzione mare. Superata la rotatoria, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il palo del semaforo pedonale situato alla sua destra. L'uomo ha riportato lesioni e anche i danni provocati al veicolo sono ingenti. Inoltre è rimasto ferito un pedone. Si tratta di una donna di 52 anni che attendeva di attraversare la strada. Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco che da prassi hanno staccato la batteria al mezzo e la polizia locale per i rilievi di legge. Dopo le frasi shock del primario del pronto soccorso di Pesaro che ha attaccato sui social i non vaccinati usando le parole schifo e disprezzo, oggi c'è chi ha chiesto alla regione di rimuovere immediatamente Umberto Gnudi dal suo incarico. Il movimento Io Apro questa mattina ha richiesto alla regione Marche, al presidente Acquaroli e all'assessore alla sanità Filippo Saltamartini la rimozione del dottor Umberto Gnudi dal suo incarico di primario del pronto soccorso di Pesaro dopo le gravissime dichiarazioni, si legge in una nota del movimento, delle scorse ore. L'odio e l'inciviltà narrate nel suo post pubblicato su Facebook in cui dice che gli fanno schifo coloro che non sono vaccinati non possono, hanno dichiarato, e non devono passare impunite. Il movimento Io Apro è Freevax, prosegue la nota, rappresenta coloro che si battono per la libertà di scelta senza vincoli alcuni. Gnudi, ieri rivolgendosi ai non vaccinati, aveva affermato Non voglio più avere a che fare con voi, se siete tra i miei amici di Facebook, se vi è rimasta una briciola di dignità, cancellatevi, altrimenti lo farò io. E se venite in pronto soccorso malati, vi curerò, è il mio lavoro, ma senza parlarvi. Sappiate che vi disprezzo, aveva aggiunto, non è una questione di libertà di pensiero, ma di rispetto per la comunità. Non ne avete e non ne meritate, avrete le mie cure al meglio che posso, come sempre, aveva concluso il primario, ma sappiate che mi fate schifo. A richiedere che venga rimosso immediatamente è anche il Comitato Salute e Diritti di Pesaro, secondo il quale le parole di Gnudi sono intrise di intolleranza e avversione nei confronti di quella piccola parte dei cittadini che liberatamente ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione, che non è nemmeno obbligatoria. Un dottore, per di più del servizio pubblico, ha scritto il Comitato, non dovrebbe mai esprimersi in questo modo verso una parte dei suoi pazienti manifestando pregiudizi. Un medico, che ha giurato di curare ogni paziente con scrupolo e impegno senza discriminazione alcuna, promuovendo l'eliminazione di ogni forma di disuguaglianza alla tutela della salute, non può rimanere a capo di un reparto tanto importante come pronto soccorso. Se Capitano Ultimo, colui che arrestò Rina, avesse dichiarato «Ok, lo arresto, ma sappiate che comunque lo rispetto e stimo, cosa sarebbe successo?», ha chiesto il Comitato. «Vi sareste fidati ancora del suo operato?» E ha concluso «Perché dunque dovremmo fidarci noi della buona fede e della professionalità di questo medico dopo tali esternazioni?» I docenti universitari che si erano dichiarati contrari al Green Pass continuano ad esprimere il dissenso per l'obbligatorietà del vaccino imposto nel mondo della scuola. Uno di loro è il professor Vincenzo Cuteri, docente di microbiologia all'Università di Camerino. Ho fatto questa scelta proprio di non mettermi in aspettativa, ma di fare le mie lezioni di microbiologia che capitavano appunto in questo semestre proprio con questo obiettivo, cioè di informare i miei studenti su come funziona la virologia, su come funziona l'immunologia e su quello che ovviamente altri avrebbero dovuto dire con estrema chiarezza e cosa che invece non hanno fatto e continuano a non fare, perché continuano a mentire su tante cose. Fa i tamponi solo nei giorni in cui ha lezione. Per dare l'esempio agli studenti e metterli di fronte alla realtà dei fatti, il professor Vincenzo Cuteri, docente all'Università di Camerino, è contrario all'obbligo del Green Pass. Nei mesi scorsi ha partecipato a numerose manifestazioni di protesta contro il Lascia Passare ed è uno dei primi firmatari della petizione sottoscritta dai docenti universitari quando era stata inserita l'obbligatorietà della Carta Verde per accedere a tutte le facoltà. Rivendico senz'altro questa libertà di poter andare a lavorare senza dover sottopormi a una tassa che a quanto pare diventerà quotidiana prossimamente, quindi io credo che ci debba essere un'assoluta libertà di scelta che vadano rispettati i principi della Costituzione, che vadano rispettati le leggi di rango superiore, come ad esempio i regolamenti europei, e che quindi si debba consentire a chiunque di poter scegliere se sottoporsi a un trattamento oppure no. Ormai è evidente, ha proseguito il professore, che ci siano dei grossi limiti alla vaccinazione e la quale sta per essere imposta in maniera indiretta a tutta la popolazione italiana. Io penso che in questa gestione insensata della pandemia che c'è stata fino ad ora in realtà si è detto di tutto il contrario di tutto. Una sola cosa è certa, e cioè che la comunità europea, e quindi compresa anche l'Italia, ha acquistato una quantità enorme e spropositata di vaccini che oggi deve consumare. Il governo quindi starebbe cercando in tutti i modi di convincere i cittadini a fare i vaccini indipendentemente dalla loro sicurezza. Oggi sappiamo che l'efficacia è estremamente limitata. Le pensi che il governo israeliano ha appena pubblicato un lavoro svolto in aeroporto dove accedono sia soggetti vaccinati che non vaccinati, e consideri che in Israele i non vaccinati sono anche quelli che hanno ricevuto una doppia dose e in realtà i dati che vengono forniti sono che già al terzo mese dalla terza dose la protezione scende al di sotto del 60%. È evidente, aggiunta ancora, che non è una strategia che può essere portata avanti. Ad esempio in Austria è stato dichiarato che la vaccinazione dovrà essere ripetuta dopo quattro mesi, in Italia dopo cinque, probabilmente dovremo scendere a tre, quindi sarà un continuo inoculare vaccini, fino a quando non avremo esaurito quelli già acquistati. Non c'è una questione sanitaria e non sappiamo quanto tempo durano gli anticorpi. E ovviamente gli eventi avversi sono sempre maggiori e saranno sempre maggiori, perché è chiaro che più si procede a inoculare questo acido nucleico, più le reazioni avverse aumenteranno. E chi parla di scienza evidentemente non legge gli articoli scientifici, perché ci sono ormai centinaia e centinaia di lavori che vengono pubblicati in cui sono evidenziati una serie innumerevole di eventi avversi causati da questi vaccini. Questa caccia alle streghe dei Novax, ha concluso Cuteri, credo che sia totalmente illogica, perché chi si sottopone al tampone ogni due giorni è continuamente controllato, a differenza di vaccinati che comunque possono contagiarsi e contagiare. Io poi non mi ritengo assolutamente un Novax, mi ritengo sicuramente uno contrario al Green Pass, che è una cosa ben diversa. Ma dicevo accusare i Novax di essere gli untori, di essere i diffusori, di essere coloro che non devono essere invitati a cena o durante le festività di Natale, perché rappresentano un pericolo per la popolazione intera. Ma io mi chiedo, ma se è vero che questo vaccino è così efficace come viene decantato, ma qual è il timore di coloro che sono vaccinati? È una cosa che non ha alcun senso, quindi andare ad accusare coloro che hanno scelto liberamente di non sottoporsi a questa vaccinazione, credo che sia una cosa effettivamente senza senso. Nell'ultime 24 ore nelle Marche si è verificato un decesso legato al virus. La vittima è una donna di 86 anni, residente nel Lanconetano. Tra le nuove diagnosi, invece, positive riscontrati sono 439, di cui 86 nella provincia di Pesero Rubino. La più colpita è Ancona, con 121 casi. Negli ospedali della regione, infine, ci sono 4 ricoveri in più rispetto a ieri, per un totale di 117. Scende levemente il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre resta invariato quello dei degenti in semi-intensiva. La curva pandemica nelle Marche è in crescita e le ospedalizzazioni stanno aumentando in media 2-3 unità al giorno. Lo ha riferito il presidente Francesco Acquaroli, rispondendo alle domande dei giornalisti ad Ancona e sull'obbligo delle mascherine all'aperto ha detto stiamo cercando di capire se ci sarà un intervento del Governo centrale e se sarà necessario faremo un'ordinanza. Intanto, come annunciato dalla Prefettura, verranno eseguiti dei controlli ferrei in vista dell'introduzione del Super Green Pass. Mentre sta ripartendo forte, ha aggiunto, la vaccinazione è anti-Covid. Ieri ci sono state 12.000 somministrazioni e sul lab dedicato ai bambini Acquaroli ha risposto non credo che in questo momento sia ipotizzabile. È fondamentale la questione dei richiami, poi vedremo quello che ci dirà il Ministero. Lunghe file oggi in via a Lombardia-Pesero dove ha riaperto il punto tamponi, ora non più in strada dei cacciatori. Dalle 14 si sono messi in coda all'interno delle proprie auto oltre 200 prenotati. Un'apertura abbagnata con circa 10 volontari che per 5 ore di fila hanno coordinato l'arrivo dei cittadini sotto la pioggia. Il centro sarà aperto due pomeriggio a settimana, il martedì e il giovedì. Ma il consigliere regionale Andrea Biancani, oggi sul posto, ha già fatto sapere che si sta valutando di arrivare a tre giorni di apertura. Dovranno recarsi a fare il tampone molecolare solo le persone che vengono chiamate dal servizio di prevenzione dell'Asur su segnalazione del proprio medico di base o del pediatra. Rimaniamo a Pesero dove questa mattina sono stati insegniti del prestigioso riconoscimento Stelle al merito del lavoro 10 persone della provincia di Pesero e Urbino che si sono distinte per meriti, laboriosità e buona condotta morale. Sono state premiate anche due aziende del territorio di Fano e di Urbino. C'era per noi Angelica Panzieri. 10 nuove stelle al merito del lavoro sono state insignite questa mattina del prestigioso riconoscimento nel Salone Metaurense della Prefettura. Si tratta di 10 personaggi della provincia di Pesero-Urbino che si sono distinti per meriti, laboriosità e buona condotta morale. I nuovi maestri del lavoro sono dipendenti di imprese pubbliche e private 5 sono stati premiati per l'anno 2020 ed altri 5 per il 2021. Oltre a questi sono state premiate dal prefetto di Pesero-Urbino Tommaso Ricciardi due aziende della provincia la Benelli Armi di Urbino e la St. Andrews di Fano. Sono risentita addosso a tutto il lavoro che ho svolto dal 1956 che ero giovanissima ho dato ma ho anche ricevuto molto dalle persone che venivano allora i lavoratori non erano ancora molto assicurati quindi si è lavorato in quel senso lì costruire, programmare, consigliare. Alla cerimonia oltre al prefetto Ricciardi anche il presidente del consiglio comunale di Pesero Marco Perugini il console provinciale per le stelle al merito del lavoro Luciana Nataloni e l'assessore regionale Stefano Aguzzi in prima fila i sindaci dei diversi comuni della provincia e le alte cariche istituzionali locali un titolo, quello di maestro del lavoro che viene conferito con decreto del presidente della Repubblica ogni anno il primo maggio quest'anno per via della pandemia da covid la cerimonia si è svolta in forma ristretta nella sede della prefettura di Pesero Il mondo del lavoro è quello che ha risentito di più delle conseguenze di questa pandemia che ancora una volta ci tiene sulla corda perché approfitto per ricordare a tutti che non è affatto finita dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia perché solo così ne usciremo con i dispositivi di protezione soprattutto con le vaccinazioni non è un professore universitario o l'ultimo operaio di una fabbrica che fa la differenza il lavoratore solo perché lavora perché guadagna col sudore della fronte la propria giornata deve essere dignitosamente posto in un ambiente lavorativo ho richiamato le parole non mie ma dal capo dello Stato della sicurezza sul lavoro il lavoro è un invito alle aziende alle imprese ma anche alle amministrazioni pubbliche ad investire sulla sicurezza del lavoro e a spiegare i requisiti necessari per diventare maestro del lavoro è lo stesso console provinciale Luciana Nataloni bisogna intanto aver compiuto 50 anni aver avuto almeno 25 anni di attività lavorativa continuativa con uno più imprese bisogna avere dei meriti bisogna essersi impegnati nel lavoro e quindi bisogna essere stati dei veri e propri maestri di vita, di insegnamento le domande presentate dalle aziende devono essere consegnate entro il 30 di ottobre c'è una commissione regionale che fa un attento rigorosissimo controllo dopodiché se superato questo controllo il tutto viene inviato al Ministero del Lavoro il Ministero del Lavoro che ricontrolla di nuovo il tutto il passino come capite è molto stretto dopodiché se tutto è ok le pratiche vengono inviate al Presidente della Repubblica per le onoreficenze il Presidente della Repubblica che ha un apposito decreto dà praticamente il titolo di maestro attraverso la stella al merito del lavoro i premiati della provincia di Peser Urbino sono Andrea Fabiani Marco Arzeni, Stefano Ballarini, Maria Gambarara Maurizio Benedetti, Antonella Terenzi, Crescentino Sabatini Paolo Stagnozzi, Giancarlo Mei e Loredana Menconi la CISL di Fano torna all'attacco sul caro tariff e replica il comune ad Ase i dati, ha detto Giovanelli, mostrano la realtà dei fatti e a Fano l'acqua è la più cara delle marche è sufficiente comparare i dati con gli altri comuni per vedere quanto sia cara la tariffa dell'acqua nella città di Fano i numeri sono inequivocabili dopo l'allarme lanciato dalla CISL che insieme alla categoria dei pensionati aveva sollevato il problema del caro bollette oggi il sindacato torna sul tema dichiarandosi sorpreso dalla replica di Aset e del comune la tariffa dell'acqua a Fano è più cara di tutta la regione Marche abbiamo la pressione fiscale IRPEF allo 0,8 che anche in altre città, in altri comuni Pesero, Mondolfo, Calcinelli, i sindaci Fossombroni i sindaci sono venuti incontro anche negli anni passati la tariffa è aumentata del 2,7 è vero che è un'applicazione della delibera rera però sono dati che ci evidenziano nuovamente come la pressione tariffaria fiscale per i cittadini di Fano tenendo conto che i redditi in questi anni si sono abbassati è aumentata la fascia bassa è pesante incide molto sui redditi da pensione e i redditi medio-bassi la tassa sui rifiuti, ha ribadito Giovanelli sta diventando veramente pesante per le tasche dei fanesi la tariffa deve coprire il costo dei servizi e non è più sostenibile per il sindacato che gli utili di Aset vengono utilizzati per finanziare il bilancio del comune che cosa rispondete ad Aset la quale ha parlato comunque di investimenti? gli investimenti non possono essere fatti aumentando le tariffe dell'acqua facendo presente che paghiamo una tariffa più alta anche degli altri comuni ci sono comuni virtuosi che per la qualificazione della raccolta differenziata per investimenti fatti non hanno dovuto aumentare la tariffa della tariffa del 2,7 penso a Terre Roveresca, San Lorenzo in campo ci sono comuni che scelte li hanno fatti ecco sugli investimenti crediamo di aprire un confronto non possono essere fatti con la tariffa dell'acqua facciamo presente ad Aset e al sindaco che in bolletta si paga quota depuratore quota fognatura quindi alcuni servizi che Aset imputa alle bollette sono già computati con parte della bolletta invece al sindaco e alla giunta che cosa chiede? al sindaco e alla giunta chiediamo di aprire un tavolo di confronto su questa partita della tariffa e dell'irpef locale chiediamo di adottare misure stabili perché anche le ultime risorse significative messe in campo col bonus tari abbiamo visto come le famiglie poi fanno difficoltà ad accedere prima perché è poco conosciuto poi perché non è stabile risorse stabili per ridurre la pressione irpef locale e tarifaria e adesso diamo spazio alle vostre segnalazioni partiamo da via 4 novembre esattamente all'altezza del civico 200 dove un cittadino ci segnala lo stato di degrado dell'isola ecologica è in uno stato pietoso ci ha scritto il reporter di strada e viene utilizzata come discarica a cielo aperto occorre assolutamente installare le telecamere di videosorveglianza per disincentivare chi accatasta di tutto altre foto invece sono state scattate lungo la strada comunale che da Fenile conduce a Carignano per denunciare lo stato di degrado e di pericolo del Ponte Varano il nostro reporter ci fa sapere che lo ha già segnalato più volte al comune poco fa invece un telespettatore ci ha detto che in zona Sassonia sempre a Fano stanno girando due persone che si spacciano per poliziotti dicono di volere informazioni dai miei genitori sono già passati due volte ci ha raccontato e fortunatamente non hanno mai fatto entrare nessuno oggi ho chiesto alle varie forze dell'ordine carabinieri e polizia e vigili urbani ma nessuno ha precisato segnalatore a una pattuglia in borghese che gira cambiamo argomento al via Rocca Aperta l'iniziativa con un nuovo format concepita da Massimo Puliani a partire da domenica la Rocca Malatestiana si animerà per tutto dicembre e non solo con una serie di iniziative tra danza, arte e musica il servizio di Retizia Marchion si chiama Rocca Aperta è del nuovo format pensato dal professor Massimo Puliani che a partire dal 5 dicembre animerà con numerosi eventi tra danza e arte e la Rocca Malatestiana come spiega il sottotitolo scelto per l'iniziativa ovvero la cultura in partenariato questa nuova formula ha messo insieme numerosi enti come il comune di Fano, il circolo Bianchini l'università dei saperi e l'università libera itinerante il programma che per tutto dicembre andrà ad arricchire la serie di eventi natalizi organizzati dall'amministrazione comunale e dalla Proloco Fanese si apre domenica 5 dicembre alle 17.30 con la compagna di danza Etro Collettivo che debutterà con sei proposte per il prossimo millennio spettacolo di danza ispirato a Italo Calvino e alle sue elezioni americane anticipato dalla performance di danza classica e moderna dal titolo Momenti di Vaganova Danza la Rocca diventa il centro principale dell'inverno dopo la grande estate come se a un certo momento la Rocca potesse essere bivalente e anzi polivalente perché gli spazi si sono raddoppiati è infatti questo il senso della Rocca cioè dare spazio ai linguaggi contemporanei dove di sopra nel salone delle esposizioni ci saranno anche le mostre e sotto nelle cellette di nuovo riproporremo la grande mostra europea non più ferite con 11 artisti internazionali mentre ritornerà dal 18 proprio nata qui la mostra Artisti per Dante con 65 pittori che faranno una mostra con fine benefico ma Rocca aperta è anche musica il 27 dicembre alle 21.15 la Rocca Malatestiana si animerà grazie ad Antonino nel concerto di Natale Christmas 21 ad accompagnarlo saranno il maestro Davide Di Gregorio assieme a Giulio Farigliosi e Simone Oliva infine sabato 5 marzo 2022 nel giorno della nascita del grande poeta e regista si terrà il Pasolini Day tutte le informazioni sul programma completo biglietti e prenotazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Fano Rocca Malatestiana ed è anche importante pensare che ci sarà un grande spazio per la musica perché qui c'è il Fab Lab che è una sorta di laboratorio ma al tempo stesso di sala prove dove appunto i giovani costruiscono delle performance musicali che si vedranno poi quest'estate all'aperto ed è proprio questo il bello della Rocca che riesce a coniugare la presenza di molte espressioni giovanili siamo un giorno prima del super green pass rafforzato quindi il 5 potranno venire anche coloro che fanno solo il tampone e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale tra poco trasmetteremo uno speciale sul consiglio comunale monotematico che si è svolto nei giorni scorsi a Fano dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne occhio alla notizia invece torna domani sera come sempre alle 20 e 30 arrivederci grazie